Ogni giorno, in ogni angolo del mondo, c'è chi festeggia il proprio compleanno con un barattolo di Nutella. Oggi è la Nutella a festeggiare e a compere 50 anni. Nel 1964, infatti, usciva dalla fabbrica di Alba il primo vasetto di Nutella, figlia dell'intuito di Michele Ferrero. Oggi un brand mondiale, apprezzato da intere generazioni per il suo gusto inimitabile. Nessuna ricetta magica né segreta, dicono dalla Ferrero nella conferenza stampa di presentazione dei festeggiamenti. Tutto è scritto sull'etichetta, ciò che invece resta coperto dal segreto è il processo industriale. Per questo nessun accesso alle telecamere è consentito. Il presidente di Ferrero S.P.A., l'ambasciatore, Francesco Paolo Fulci. Ogni prodotto ha una parabola, alla sua scesa comincia il decreto. La fine dell'accesa della Nutella non è assolutamente ancora in vista, perché su ogni mercato al cui ci affacciamo riscuotiamo un successo per noi stessi incredibile. Per la ricorrenza, Poste Italiane ha realizzato un francobollo celebrativo, un riconoscimento importante per un prodotto made in Italy famoso in tutto il mondo. Sostegno anche da parte del governo il ministro per lo sviluppo economico Federica Guidi. Io credo che questa sia una straordinaria storia di successo di imprenditoria familiare italiana che è diventata grande nel mondo, ha creato un grande gruppo, è diventata un'azienda globale. Nutella è il prodotto alimentare confezionato italiano più popolare e più consumato nel mondo, ma c'è una sorpresa, i primi consumatori non sono gli italiani, battuti, seppur di poco, dai tedeschi. Il 17 maggio festeggiamenti in piazza nella patria di Nutella, d'Alba, mentre il 18 maggio in piazza del Pelviscito a Napoli verrà organizzato un evento di piazza con concerti e degustazioni, ma il compleanno si festeggia in tutto il mondo, dalla Germania alla Francia, dalla Russia fino agli Emirati Arabi.